La Ministra della Difesa 30 sta studiando di concerto con il Viminale e anche con il mio Ministro, ma con un coordinamento a Palazzo Chigi, un piano nazionale perché ci dobbiamo occupare di più di sicurezza interna. Va bene certamente la parte dell'immigrazione in cui abbiamo già ottenuto grandissimi risultati, ma basta creare casi nazionali per ogni singolo barcone, quello oramai è l'ordinario, quello è il modello operativo nostro, sicurezza, legalità e diritti umani, ma spostiamoci, spostiamo la barra verso la sicurezza interna perché è molto importante, siamo andati vicini, vi rendete conto di una strage e la cosa ci preoccupa enormemente, quindi tutti i Ministri interessati a partire con un coordinamento del Presidente del Consiglio si impegneranno per migliorare le cose.